E allora il campo partente di questo premio Antonio Carena edizione 2018, nonché ventesima edizione di questo gruppo 2 riservato alle femmine. Valkyria Bar, Vincenzo Piscoglia l'Annunziata, via e quattro feri, due Ponadio Passage senza feri, tre Chium di Revigli senza feri anteriori, 4 Valkyria OP, 5 Venaria Galefonte, 6 Vanatta, 7 Vale Capara, in seconda fila 8 Vittoria Luis, 9 Valencia Min, via e feri anteriori, 10 Vallecchia DR, 11 Vanity Bar, 12 Vola Via di Notte, 13 Vanguardia, ovviamente ho letto per quanto riguarda i feri solo quelli con le variazioni, Valkyria Bar, di Galoppo in fase di allineamento, ancora prima che la macchina stacchi. C'è la rottura di Vanatta, che aveva provato la partenza. E allora, davanti ci va Venaria Galefonte, con all'esterno Vale Capara, lungo la corda Epona du Passage, poi lungo la corda Vittoria Luis, intanto Vale Capara sfila su Venaria Galefonte, con 200 iniziali coperti in 14,1, con modica spesa. Vale Capara va davanti, seguita da Venaria Galefonte, Epona du Passage, Vittoria Luis, all'esterno Ekim de Reville. Il passaggio ai primi 400 in 29 viene via, in terza Valkyria OP, Vale Capara al comando, quando si va verso la chiusura dei primi 600 metri in vantaggio, Vale Capara, di rincalzo Venaria, all'esterno Valkyria OP, poi Epona du Passage, che ha ridosso l'altra francese Ekim de Reville, nella scuola di Ekim de Reville c'è Vallecchia d'Ir, si va verso la chiusura degli 800, Vale Capara è sempre salda battistrada, 800 in 59, scarso per Vale Capara, che è seguita dalla coppia Venaria Galefonte, Valkyria OP, poi Epona du Passage, si va verso il completamento del primo chilometro, Vale Capara lo passa sul piede dell'1, 13 e 3, avendo all'argo Valkyria OP, prova in terza ruota Vallecchia d'Ir, a 600 dal termine con Vale Capara, richiesta per reagire a Valkyria OP, Venaria Galefonte murata alla corda con all'argo Epona du Passage, poi Victoria Lewis in terza, Vallecchia d'Ir, più all'argo prova anche Vanguardia, ingresso della retta di arrivo, Vale Capara, attaccata da Valkyria OP, lungo lo steccato Venaria Galefonte, lo scatto in terza ruota di Epona du Passage, Epona du Passage che si libera delle avversarie, Epona du Passage che va a vincere nel più facile dei modi, davanti a Venaria Galefonte, Valkyria OP, Vale Capara, e al quinto posto dovrebbe essere Vanguardia, vince Epona du Passage con Thomas Aimerick, anzi Aimerick Thomas, eccolo qua, Epona du Passage numero 2 con Aimerick Thomas, una figlia di Real Delu e Tinu Girl che va a vincere, veramente facile facile questa Epona du Passage, il secondo posto per Venaria Reale Fonte che filtra all'interno di Vale Capara, il terzo per Valkyria su Vale e Vanguardia, quest'ultima conferma il buon esordio con il nuovo training di Holger Ellert. Grazie a tutti.